in questo video tutorial andiamo a vedere come creare delle impaginazioni utilizzando le sfumature su e veloce tanto le sfumature vengono utilizzate quando si vuole integrare due immagini tra di loro fonderle insieme oppure come questo esempio che vediamo oppure quando si vuole fondere qualche immagine con uno sfondo magari come quello presentato in questo esempio facciamo in modo di visualizzare come utilizzare le sfumature partendo da un foglio bianco andiamo a vedere il nostro tab delle sfumature partiamo prendendo delle immagini per comodità prenderò le immagini usate in precedenza che il software mi ricorda che ho già utilizzato quindi mi chiede conferma per evitare le impaginazioni di fotografie doppie quindi manipolo velocemente le mie immagini adattandole a piena pagina dopodiché vado proprio sul tab sfumatura per decidere come fondere tra di loro queste immagini o con una sfumatura abbastanza ampia o con una sfumatura un po più netta e ridotta questo caso gioco con una sfumatura un po più ridotta e quindi trascino con drag and drop le sfumature sopra le immagini e applico subito l'effetto vedete già subito una prima fusione tra di loro sta a me puoi scegliere come inquadrare le fotografie al loro interno e se voglio estendere oppure no questa fusione tra di loro quindi avanzando un'immagine all'interno dell'altra il risultato è molto semplice andiamo a vedere un altro esempio in particolare questo dove abbiamo lo sfondo sulla sinistra che si fonde verso la foto di destra ricreiamolo velocemente partendo sempre dalle immagini prendo un'immagine la posiziono sulla destra prendo uno sfondo che in questo caso prendo come esempio una tinta unita e la posiziono nella mia area di lavoro la prima cosa che decido di fare quella di lavorare sul mio sfondo e quindi lo seleziono e lo sblocco con l'apposita funzione così decido quanto di questo sfondo deve essere visualizzato sul mio foglio e quindi gli vado applicare subito una sfumatura come vedete già lo sfondo è un oggetto di per sé manipolabile all'interno della mia area di lavoro quindi decido quanto poterlo trascinare per avere un effetto di risolvenza più o meno tenue poi prendo la mia immagine anch'essa la vado a posizionare e prima di fare qualunque cosa mi devo ricordare come dico sempre di bloccare lo sfondo così torna a essere un livello chiuso sul quale posso anche ad applicare delle immagini quindi posiziona la mia sfumatura più o meno netta vedete l'effetto finale già questo dopodiché prendo un'altra immagine e avendo bloccato lo sfondo posso posizionarla sopra di esso applicandogli un leggero bordo nero che vado a selezionare questo per dare un po di stacco e di contrasto dallo sfondo come vedete ho creato velocemente l'impaginazione e posso sempre sistemarla a mio piacimento